La realizzazione al Colle dell'Is del nuovo punto visite del parco è stato per noi del Comitato Resistenza a Colle dell'Is una novità fondamentale. Il nostro impegno dal 2000 è quello di raccontare la storia della brigata partigiana che era operativa al Colle dell'Is e da sempre l'attenzione alla lotta di liberazione è stata anche l'attenzione alla montagna e quindi a restituire l'attenzione a un ambiente che aveva offerto rifugio e assistenza ai partigiani mettendo a disposizione la memoria della storia ma anche mettendo a disposizione in particolare con i visitatori del parco mi riferisco in particolare ai ragazzi delle scuole superiori la conoscenza dell'ambiente in cui la lotta partigiana si è realizzata. La costruzione del nuovo punto informativo del parco è stata per il Comitato anche la ridefinizione di un metodo di raccontare la storia. Il Comitato è estremamente grato per questo progetto dell'assistenza che ci è stata messa a disposizione e siamo fortemente impegnati a proseguire nella collaborazione con il parco per realizzare degli obiettivi che stanno a cuore alla nostra associazione ma che condividiamo totalmente e che sono quelli di fare rete nell'interesse dell'ambiente e nell'interesse dei cittadini. Grazie Grazie Grazie